I commercianti del centro di Teramo sono sul piede di guerra contro la politica dei parcheggi blu e il piano urbano della mobilità sostenibile Pums, promosso dall'amministrazione comunale. Secondo i commercianti i parcheggi blu costano troppo anche per i residenti e scoraggiano i clienti dal venire in centro. Ma guardi noi non ce l'abbiamo col Pums, questo è da chiarire, noi ce l'abbiamo con questo Pums che praticamente è legato a un contratto, a una convenzione che detta le regole e le limitazioni. L'obiettivo principale è quello di esaminare alcuni punti di questa convenzione, di questo contratto che a nostro avviso non è stato letto, non è stato letto da gran parte dei cittadini, non è stato letto dalle associazioni che dovrebbero rappresentare i commercianti, dai comitati di quartiere che dovrebbero rappresentare i cittadini. Quindi il nostro obiettivo primario oggi è quello di leggere alcuni punti, alcuni passaggi del contratto che a nostro avviso sono fondamentali e lasciano capire tante cose. Inoltre il Pums prevede ulteriori restrizioni alla circolazione e alla sosta che potrebbero penalizzare ulteriormente le attività commerciali. Questo argomento sicuramente bisogna raggiungere a una soluzione che accontenta tutti, che non danneggia assolutamente la città, il suo tessuto economico, la residenzialità, il tessuto commerciale e anche bisogna mettere mano anche al decoro della città attraverso questo Pums. Per esprimere il loro dissenso i commercianti hanno anche affisso manifesti 70 cento in diverse zone della città, con lo slogan basta salasso parcheggi blu e non al Pums, sia al commercio. Ma guardi la città è sotto gli occhi di tutti, non lasciatelo dire a noi perché lo vediamo tutti, cioè la città da un punto di vista di decoro penso che sia letteralmente inesistente, da un punto di vista di gestione, di fruibilità dei parcheggi, lo vedete tutti, anche voi immagino avrete pagato qualche volta la sosta, non è che la paghiamo solo noi o lo paga chi viene in centro. Quindi diciamo da un punto di vista di ricostruzione, Teramo ha più di 70 edifici abbandonati o 70 contenitori vuoti abbandonati quasi tutti nel centro storico di Teramo. E attenzione, questi edifici sono di proprietà dell'amministrazione comunale, di proprietà della provincia, di proprietà della regione, di proprietà della ALS. Quindi che vogliamo fare? Facciamo il Pums e lasciamo tutte queste strutture ancora così all'abbandono?